Erano stanchi di violenze e soprusi, ma nessuno osava ribellarsi. Fate luogo a un ricco, con te di Hess! Nessuno tranne lui. E dite a mio figlio che ci rivedremo presto! Mi dispiace dover usare la forza, ma sono costretta a portarvi via come ostacolo! Bart Lancaster La leggenda dell'arciere di fuoco